Buongiorno a tutti, l'HGD oggi ci parte indietro dei 113 anni, al 23 ottobre 1911 e all'attacco a sorpresa, nello scenario della guerra italo-turca, compiuta da forze arabe contro il reparto italiani a Sharashat, un villaggio nei pressi di Tripoli, nel quale 21 ufficiali e 482 uomini di truppa furono brutalmente uccisi. Quel giorno, alle 8 del mattino, i bersaglieri all'estrema sinistra del fronte, si ritrovavano circondati dalla caballeria araba e non avevano comunicazioni, il telefono non funzionava, non c'erano staffette e quando finalmente quegli uomini, ormai spacciati, riuscirono a mandare delle richieste d'aiuto, lo Stato Maggiore credette a delle esagerazioni. A mezzogiorno all'accampamento arrivò il capitano comandante della sesta compagnia ferito e disse al generale che la sua compagnia era distrutta e che il nemico era all'interno, ma il generale non lo prese sul serio. Un'ora dopo i rinforzi non erano ancora partiti, poi furono mandate due compagnie di fanteria che si fermarono a mezza strada per la forte opposizione araba e a tarda sera erano ancora fermi. Altre due compagnie neri bersaglieri intanto venivano trucidate e i cadaveri spogliati interamente, i feriti pugnalati ai morti tagliati genitali e messi in bocca e ai feriti tagliate le orecchie. In seguito al massacro di Sharashat, altrettanto spietata fu però la risposta italiana, Tripoli fu messa a ferro e fuoco e un migliaio di arabi fucilati e impicati. Era diventato chiaro che il corpo di spedizione italiano si trovava circondato in mezzo a una popolazione ostile contro la quale venne scatenata una repressione feroce che suscitò l'indignazione della stampa estera presente a Tripoli e alienò in modo definitivo le poche simpatie internazionali sulle quali l'impresa di Libia poteva contare.